Dove stiamo andando? Dove stiamo andando a vedere la vostra? Oggi è il tuo compleanno? Sì, è il mio cuore. Dove andiamo? La vostra, adesso vi facciamo vedere. State con noi. Ciao. 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 Dove siamo? Siamo in stazione centrale. Adesso andiamo, vero? Adesso andiamo. Ragazzi, siamo in stazione centrale. Adesso state con noi così vedrete qualcosa di bello. Non so se ci vediamo, però vabbè, adesso iniziamo il nostro tour in questo body world. Wow. Bene, ragazzi, siamo al body world, che rappresenta il ritmo della vita. È una mostra sul corpo umano e sulla plastinazione, che è una tecnica inventata dal dottor Gunther von Hagens nel 1977 presso l'Università di Heidelberg in Germania. E da allora è stata continuamente sviluppata. Tutti i corpi che noi vedremo qua, che sono esposti, praticamente sono corpi umani veri, dove è stata applicata questa plastinazione, che è una tecnica che arresta la decomposizione del cadavere e produce campioni molto solidi, inodori e durevoli per la formazione scientifica e medica. La produzione di un corpo umano plastinato di tutto il corpo richiede circa 1500 ore lavorative. Venite con noi e proseguiamo per la nostra mostra. I corpi sono rappresentati in varie posizioni appunto per far vedere meglio da ogni angolatura tutte le fasce muscolari, l'apparato scheletrico e tutto quello che ne compone. Guardate un po' questo, incredibile. Questi pensate, cioè è incredibile pensare che siano veramente corpi umani. In questa posizione il corpo umano vuole rappresentare il peso della vita che ci portiamo sulle spalle ogni giorno. E quanto tutto questo sia stressante e pesante. Ti piange? Bella! Bella ragazzi, incredibile. Vediamo un po' di sopra cosa c'è. Grazie mille. ragazzi guardate davvero incredibile guardate questa posizione si vedono tutte le fibre muscolari l'apparato scheletrico tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bellissimo questo posto da vedere anche questo è un viaggio un viaggio nel corpo umano grazie a tutti il gabinetto anatomico adesso vi facciamo vedere cosa vuol dire fate con noi non lasciateci grazie a tutti eccoci qua sull'onda del piacere ragazzi siamo giunti al termine questo è un viaggio nel corpo umano che tutti dovrebbero fare anche questo è un viaggio non in van ma è un viaggio ciao siamo usciti ragazzi siamo in stazione centrale di milano e adesso andiamo verso i nostri amici pelosi pelosi babbuini grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti